Comunque è difficile capire se la linea è fatta bene perché è inciso tanto con le lamine. Sì, non sembra velocissima, è ad occhio, salto Rominger, prova impeccabile se vogliamo, ma questa è una gara di velocità. Attenzione, le spigolate nella parte finale. Ma qui cosa devi fare? Sull'ultimo dosso, diretta? Diretta, sì, quando è la direzione ideale, poi giù dritta. Uh, cade nel finale e travolge il cameraman alla fine, però spero che non sia successo nulla. Una brava stanchissima, sembra tutto che è. Allora, tecnicamente impeccabile, però su una discesa di questo tipo deve cercare di rischiare un po' di più con le linee, magari allugarle ma lasciare andare di più.